Un fine settimana domani e sabato in piazza San Zeno per far conoscere a più persone possibili le oltre 100 realtà dell'economia sociale scaligera che assieme alla MAG, società mutua per l'autogestione di Verona, si occupano e soprattutto rendono possibile l'economia del buon vivere. Due giorni di festa aperti alla cittadinanza dedicati a Lino Satto, scomparso lo scorso 30 giugno, socio fondatore e presidente per 25 anni di MAG. È una festa in cui vogliamo stabilire un legame con la cittadinanza, dire che MAG c'è, esiste da 40 anni e che porta avanti un'economia del buon vivere. Un'economia del buon vivere che costituita da tante realtà, tante imprese sociali che con donne e uomini animate da desideri, passioni, vogliono creare lavoro auto-organizzato e auto-imprenditivo. Tutte le imprese scendranno in piazza, sono imprese che producono lavoro, servizi, lavorano bene e secondo la cifra della cooperazione e della condivisione. Per cui orientano quello che è il bene comune e gli stili di vita sostenibili. Programma ricco quello previsto, ci saranno incontri, seminari, workshop, momenti conviviali. Il programma prevede due seminari di approfondimento, uno il sabato pomeriggio in Sala Zanotto nel chiostro della Basilica di San Zeno sull'impresa sociale di beni e servizi per la vita e l'altro il sabato mattina sempre in Sala Zanotto su il progetto unico missionato dalla MAG Scaligera di educazione finanziaria, sperimentato lo scorso anno con 124 famiglie del nostro territorio. Porteremo nella prima parte della mattinata di sabato i risultati del progetto Mi prendo cura, un progetto importante di educazione finanziaria che grazie al sostegno delle due fondazioni San Zeno e Cari Verona ci hanno permesso di accompagnare e seguire 124 famiglie di tutto il territorio veronese. Li abbiamo accompagnate attraverso il percorso di bilancio familiare per poter permettere a loro di gestire al meglio le loro risorse, di ripensare all'uso del denaro in un momento in cui la crisi ci ha reso tutti un po' o quasi tutti più fragili, più precari, perciò è stato di sostegno e di aiuto alle famiglie per gestire al meglio le proprie risorse. Questo progetto che cosa ha insegnato a voi, quali punti ha sottolineato, che necessità avete individuato? È stato un progetto poi di relazioni, nate tante relazioni con tutte queste famiglie, avevamo proposto un modello, uno schema molto semplice ma che poi abbiamo personalizzato nei vari percorso. Risultati sono stati piccoli ma dai grandi significati perché il poter dire a una famiglia di riuscire a pagare nuovamente il mutuo quando l'aveva sospeso oppure di riuscire a far quadrare il bilancio, assolutamente questo per me è un grande risultato oppure anche per delle donne straniere che magari vivono all'interno della loro comunità e non riescono magari ad integrarsi, venire con noi a parlare, a raccontarsi e anche questo è un risultato.